...di passare le cure del caldo al divanzore brasiliano, 37esimo, 90-0, 8-0 Cagliari, con il testo, forse in più di sede, ed è in angolo, un filo di catezza, adesso dalla bandierina, Niccoli, la parata centrale, senza difficoltà da parte del portiere del Cagliari, un minuto fa, un minuto prima, esattamente al...